Lethal Weapon è stato rinnovato per una terza stagione, fra l'entusiasmo dei fan che hanno amato le prime due, ma la notizia è dolce e amara per chi invece amava Clayne Crawford, che nell'action drama interpretava Martin Riggs. La terza stagione non lo vedrà infatti tra i protagonisti, al suo posto con un nuovo ruolo, Sean William Scott, noto soprattutto per il ruolo di Stifler nella saga di American Pie. Scott interpreterà quindi un nuovo detective, forse il fratello di Riggs, ed andrà ad affiancare il confermato Damon Waynes, volto del più esperto e sposato Roger Malthough. Clayne Crawford non lascia michevolmente il set della serie, che ha contribuito a portare al successo, a quanto pare era stato già più volte richiamato per motivi disciplinari e per un comportamento sul set definito tossico, con atteggiamenti ostili ed offensivi verso colleghi e membri della troupe. La decisione di Warner di allontanare definitivamente Crawford è avvenuta durante la produzione di uno degli episodi della seconda stagione, diretto da lui. Al termine delle riprese, parte dello staff ha rassegnato le dimissioni. Da qui la decisione di non rinnovare il contratto all'interprete di Riggs. Little Weapon si conferma un grande successo non solo in America, dove va in onda sulle reti Fox, ma anche in Francia e in Italia, dove la seconda stagione ha debuttato pochi giorni fa, in chiaro su Italia 1, con ottimi risultati di Shell.